Se il passato non si può cambiare e il futuro ci interpella, non possiamo sottrarci dalla ricercare e promuovere una maggiore comunione nella carità e nella fede. Con queste parole Papa Francesco ha colto in Vaticano i membri della Presidenza della Federazione Luterana Mondiale. Pur riconoscendo le divisioni del passato, anche molto dolorose, che hanno visto i discepoli di Cristo distanti e contrapposti, il Pontefice ha espresso soddisfazione per il cammino ecumenico degli ultimi anni, un itinerario che non può permettersi di fare passi indietro, accontentarsi, arrestarsi per timore, pigrizia, stanchezza o convenienza. E per procedere insieme verso il Signore, ha insistito Papa Bergoglio, non bastano buone idee, ma occorre muovere passi concreti e tendere la mano, soprattutto spendersi nella carità guardando ai poveri. Solo pregando possiamo custodirci gli uni gli altri. La preghiera purifica, fortifica, illumina il cammino, fa andare avanti. La preghiera è come il carburante del nostro viaggio verso la piena unità. Infatti, l'amore del Signore che attingiamo pregando mette in moto la carità che ci avvicina, da qui la pazienza nel nostro attenderci, il motivo del nostro riconciliarsi, la forza per andare avanti insieme. La preghiera purifica, immaginale, di fare passi indietro, la perghiera purifica, immaginale, di fare passi indietro, Grazie a tutti